amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto apriamo con il calcio un sabato pomeriggio davvero importante per la lucchese che al porta elisa ospita la corazzata ascoli una delle squadre più accreditate per il salto in serie b piove sulla lucchese speriamo che non piova sul bagnato che di difficoltà in questo momento i rossoneri ne hanno già in ampia dose vero che in atto uno strano silenzio stampa ma l'alone che circonda l'ambiente pare tutt'altro che tranquillo vabbè parliamo solo di calcio allora al quadro dipinto diamoci una pennellata di ottimismo in considerazione dell'imminente calata a lucca della corazzata ascoli la squadra di petrone è considerata a tutti gli effetti una delle compagini più attrezzate per cercare l'immediata risalita in serie b dunque un interlocutore che non è proprio il massimo della vita ovvero l'avversario che ti può rilanciare ma siccome il calcio non ha mai verdetti già scritti molto dipenderà anche da come la lucchese saprà affrontare cotanto avversario pagliuca le idee chiare pensa che si è giunto il momento di cambiare e non poco tanto che rispetto alla squadra battuta sette giorni fa all'aquila le varianti riguarderanno ben 5 undicesimi ecco pertanto la lucchese anti ascoli casapieri in porta bianchi e specie calistri e pantano in difesa boilini degeri al debutto assoluto e non è in mediana santini alla tre quarti ad agire alle spalle di ferrante e biasci quinto appuntamento casalingo per la lucchese che finora ne ha vinta una pareggiate due ed una perduta due settimane fa contro la carrarese un derby amaro che ha lasciato mille risvolti altrettante polemiche il botta e risposta baci pagliuca e l'uscita della squadra sulla vicenda premio promozione dello scorso anno che ha mandato su tutte le furie il presidente inducendola a comandare un silenzio stampa che da allora va avanti e a tempo indeterminato speriamo che questa lucchese così trivolata torni a parlare almeno sul campo con un risultato scacciatrice due brevi annotazioni calcistiche la prima riguarda ancora la lucchese la partita lucchese ascoli in onda su noi tv vi ricordo domenica sera alle 21 l'altra invece ci arriva da viareggio c'è la segnale al collega roi lepore la coppa carnevale possiamo dire che ha perso un pezzo di storia nella sua vicenza è venuto infatti a mancare all'età di 77 anni renzo cappellaro che pensate negli anni 50 allora era tutto un po diverso partecipò per ben cinque edizioni alla coppa carnevale dell'epoca al torneo di viareggio con la maglia del vicenza cappellaro pensate ancora oggi il capo canoniere principe nella storia del torneo con 14 reti record uguagliato negli ultimi anni solo da ciro immobile nella terza giornata del campionato di serie c di basket il cmb junior lucca torna al pala tagliate sabato sera alle 19 bianconeri di coccia piazza ospiteranno il costone siena avversario temibile ma non insuperabile molto dipenderà crediamo dalla vena di tozzini e compagni per quanto riguarda la squadra va segnalata la sicura assenza di nieri ancora fuori e il forte dubbio sulla presenza di pierini alle prese con l'influenza qualora lucca dovesse sciorinare una prova sulla falsa riga di quella esibita due settimane fa di cui vediamo le immagini contro carrara potrebbe davvero arrivare la seconda vittoria stagionale se invece il cmb sarà quello timido impacciato soprattutto in avvio di gara sconfitto ad agliana allora le cose potrebbero complicarsi c'è curiosità anche per verificare se il pubblico sarà ancora numeroso e non abbiamo dubbi motivo di dubitarlo come quello di due settimane fa contro carrara quasi a testimoniare la grande voglia di basket del pubblico lucchese ancora per il basket parliamo del bam al topascio altro impegno ad alta coefficiente di difficoltà per il bam in questo caso i rosa blu di coccia tonfoni giocheranno domenica alle 18 al palabrigge di ponte bugianese contro il forte pino dragons firenze una delle candidate alla vittoria di questo campionato vedremo se il bam riuscirà a giocare con la forza dei nervi distesi e magari ad incamerare il primo successo stagionale per quanto riguarda invece il basket giovanile turno di campionato sfavorevole per l'under 17 elite della libertas luca di coccia ricci che ha perso 64 a 52 sul campo della pallacanestro empoli dopo essere rimasta incollata al match fino all'inizio dell'ultimo quarto questa settimana ricordiamo prendere al via anche il campionato under 14 regionale l'hockey su pista per la prima volta nella sua cinquantennale storia l'hockey forte de marmi giocherà nella massima competizione europea la champions delle rotelle l'eurolega sabato sera alle 21 al palaforte arrivano i portoghesi della juventude de viana in un girone quello c che comprende anche gli spagnoli dell'iseola corugna e i tedeschi dell'erring l'atletica il podismo ultima tappa domani del criterium podistico toscano 2014 con una new entry in memorial toni moreno gara di 8 chilometri giunta alla 24esima edizione che per la prima volta entra a far parte del blasonato circuito podistico la gara scatterà alle 15.30 di sabato da riana fosciandora con l'organizzazione del gruppo podistico amatori uispi di fosciandora e la stretta collaborazione del gruppo podistico parco alpi apuane ed ancora per il podismo una gara podistica in ricordo di aurora francesconi sabato pomeriggio a partire dalle 15.30 al principe di piemonte di viareggio si svolgerà questa gara di 3.6.12 chilometri per ricordare la quindicenne scomparsa in un incidente stradale lo scorso 28 luglio l'intero incasso andrà a favore dell'associazione costituita appunto in nome di aurora francesconi ed ora parliamo di alpinismo è rientrato in italia riccardo bergamini l'alpinista lucchese che cercava la scalata agli 8.163 metri del manaslu la spedizione purtroppo è fallita e cerchiamo di capirne i motivi nel servizio che abbiamo preparato potremmo chiamarla anche la crisi della settima spedizione tante sono infatti le volte che riccardo bergamini ha affrontato scalate a montagna al di fuori dell'europa stavolta l'obiettivo si chiamava manaslu 8.163 metri in nepal sulla catena montuosa dell'himalaia di fatto sul tetto del mondo le premesse sulla buona riuscita della spedizione c'erano tutte insomma dopo il choiù del 2013 bergamini era convinto di poter domare anche l'ottava vetta più alta del mondo se non che quando tutto sembrava pronto per dare l'assalto finale lo scerpa che avrebbe dovuto accompagnarlo si è clamorosamente tirato indietro tanta rabbia adesso smaltita ma non del tutto è stata una bella esperienza cioè mi ha maturato ancora di più e mi ha fatto capire magari alcuni errori magari di fiducia perché purtroppo c'è tanta gente che gira su queste spedizioni tanta gente non è gente professionale ma oltre ad essere professionale magari sono anche proprio diciamo dei banditi ora l'unica cosa è guardare avanti al futuro e al 2015 quando sicuramente Riccardo ci riproverà ma al Manasco penso di no perché secondo me il campo base Manasco è un territorio maledetto cioè praticamente tutti i giorni piove e nevica non c'è mai il sole quindi almeno al campo base per godere come è successo al choiù qualche giornata di sole un po' di rilassamento ma poi quello si vede poi uno dice quello che dice uno adesso poi magari fra un anno ora non si sa grande soddisfazione mediatica per la pallavolista lucchese Nadia Centoni la sua grinta e la sua classe l'hanno portata nelle case di tutti gli italiani durante i mondiali di pallavolo e l'hanno vista grande protagonista conferma della popolarità della pallavolo femminile delle atlete azzurre arriva ora la partecipazione per Nadia assieme alla sua compagna di squadra al Libero De Gennaro alla popolare trasmissione di Rai 1 ballando sotto le stelle la pallavolo esordio casalingo per la pallavolo massa sabato alle 17.30 al palazzetto dello sport di Camaiore la squadra di Claudio Grassini ospiterà lo Sway Natura Si di Bologna un avversario anche in questo caso molto ostico un avversario da prendere come si dice con le pinze qui vediamo la squadra della pallavolo massa in occasione della recente presentazione l'esordio costituisce poi di per sé sempre una gara molto delicata giocarlo contro una squadra giovane e piena di entusiasmo può rivelarsi un mix pericoloso a Firenze prima prova regionale del campionato di specialità di ginnastica artistica maschile anche qui la moto Viareggio si è distinta per la qualità degli atleti in gara due medaglie d'oro e due d'argento l'oro al corpo libero di Diego Paolinelli il secondo oro agli anelli con Matteo Grossi il trionfo poi si è completato con il secondo posto di Federico Cordelli al cavallo con maniglie e ancora con Diego Paolinelli che ha ottenuto l'argento alle parallele domenica un nuovo grande appuntamento impegno per la ginnastica Raffaello Motto il torneo allievi dove debutteranno per la prima volta in pedana i piccoli atleti di questa società che si sta sempre più affermando anche a livello nazionale sia in campo femminile, ne abbiamo parlato tante volte ma anche in campo maschile complimenti anche ai tecnici di questa bella realtà della ginnastica Motto Viareggio e con questo è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva vi ringrazio per l'ascolto dopo una breve pausa pubblicitaria il Tg prosegue con la terza e l'ultima parte a tutti voi, la più cordiale, buonasera